Ragazzi, cioè, sono passate due settimane, se non tre. Non ce lo capire! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Che cazzo è? Ma te sei fuori! Ragazzi, dovete capire che qui su Discord hanno messo sta soundboard, no? E Vale si diverte a jumpscare tutti con sto effetto sonoro. Allora, noi abbiamo provato a fare questa sottospecie di castello. Ah, è vero cazzo! Che rende tutto un po' più cavalleresco, però è abbastanza brutto. Non lo so. È brutto? No, non è inguardabile, però è brutto. Allora, adesso, in questo momento, apparirà un cane sullo schermo. BAU! Chi dobbiamo uccidere? Il caseless void. Oh Cristo! Madonna santa, dammi il tempo di capirmi. Ragazzi, mi ha fatto chiacare addosso. Noi dobbiamo uccidere queste sfere di energia e poi dobbiamo fare danno a lui. Eh, no, no. Eccolo, fate di danno, fate di danno. Schivate, 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 schivate. Vai, vai, vai che lo rompi. Vai, raga. Eh, lui, lui. Vai, vai, vai. Occhio, 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 schivate, schivate, schivate. Occhio che confondono, eh. Sì, è un po' un brain of tool della situazione. Queste qua lì mi laggano, madonna. Aia. Dov'è, dov'è? È qui. Sono morto. Mi ha ucciso. No, 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 no. Raga, 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 dai, l'ultima fase, l'ultima fase, l'ultima fase. Vai, 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 vai. Raga, vai. Dov'è? Dov'è? No, resistete. Dov'è? Si uccide lui, piano, piano. No, 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 ragazzi, dai che ce l'ho. Sono morto. No. Bea. Bea resisti. Bea lagga talmente tanto che non prende danno. Raga, abbiamo lì. Bea. Sì. Ma calmati. Ragazzi, il caseless void è la prima delle tre sentinelle. del devorer of god. Allora, prossimo boss, prossima sentinella. La stormweaver. Stormweaver che si combatte nello spazio. Tre, due, uno. Oh, Cristo. Oh, eccolo qua. Gueleri. Ah, ma non gli facciamo niente. Ragazzi, no, dovete colpire la testa e la coda, come sempre. Li sto leccando il culo, li sto leccando il culo. E, ragazzi, questa è la prima fase. Non pensate. No, è morto. È morto. Attenzione, Valentino. Valentino Rossi, un Mugello. Oh, ragazzi, è forte. Quattro. Tre secondi. Mi ha taleccato il naso. Cristo bollito. Oh, è che sono cadute delle pietre. Oh, ragazzi. L'inferno, l'inferno. Occhio. Vale le testi. Madonna. Aiuto, ragazzi, aiuto. Ci sono io, Aki. Oddio. Cosa sta succedendo, Aki? Non lo so, non lo so. Mi sembra di giocare l'inferno, non vale. Oh, Cristo. Sì, è l'inferno. No, ragazzi, sono chiuso, sono chiuso, sono chiuso, sono chiuso. No, 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 c'è proprio, è un bastardo, c'ha proprio divisi. Ma dov'è lui? È morto. Non lo so, non lo vedo. Questa è la catastrofe, è la distruzione. Porca puttana. Ah, ma è morto. È morto? È morto. No. Vedi che è tutto a pezzi. È despaunato. No, guarda nella chat, non è detto che è morto. Non è stato come il Dragon Folly che ha messo queste due laser rossi delimitandoci l'arena. Questo schifoso, coi tornati, ci ha proprio divisi tutti quanti. Ok, ci siamo io, Lori. Lori, sali, 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 portalo su. Vai, 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 vai. Mi serve un'arma che trapassa, un'arma che trapassa, che faccia più danno. Fase 2, fase 2, Lori. Ok, adesso lo puoi colpire un po' ovunque. Ecco il Baletel. Eh, ragazzi. Mi ha rallentato. Baletel 2. Guarda, lì stiamo scopando l'ano. L'alluce. L'alluce. Che non ha. C'è la terza fase? Oh, raga, è fortissimo. Senti, concentratemi. Questa è la fase più buca. No, non si può però, ragazzi. Raga, sliterio! Eh, sliterio! Inglobato! Sliterio! No, mi ha ancora... Mi ha... Muori, merda! Sono morto. Cioè, ragazzi, ma non si può giocare a sliterio così. È morto! Oh, mio Dio. Oh, che bello questo arco. Guarda, che casino! Ok, l'ultimo delle sentinelle è nell'inferno. Per ora lo Stormweaver è il più... più gazzuto. Caseless void? Sì, useless. Comunque. 3, 2... Basta, smetto. Dov'è? Dov'è? Eccolo! Lui è il signore... E lui è proprio il signore dell'inferi. Ah, questo è quello lì! Ah, sì, quello che mi piace. No, mi sta spaccando un po'. Sì, oddio, non ha tanta vita, però fa tanto male. Sto per morire. 10 di vita. Sono morto! Ha visto la cosa che non ce l'avevo... Puttana! Achille è morto. Ora... L'ha detto questa pescetta! Ti abbiamo distrutto. Ti abbiamo distrutto, dai, dai. Dai, colpisto, bello. Muori, scarsone. Ragazzi, abbiamo fatto le sentinelle, però... Però il dog è ancora lontano. Il dog ha anche detto The Warrior of God, però noi lo chiamiamo dog per simpatia. Il cane. Che poi di cane non ha proprio niente. Il prossimo boss è questa cosa che è una specie di plantera necroplasmica. Non ho mai capito bene. 3, 2... Adesso apriamo una Terra Blade sullo schermo, vai. Ok. 3, 2... È un culo! Ok, ragazzi, eh. Oddio! È un culo con la Terra Blade dentro. Perfetto. Ma è plantera bianca! È... Plantera bianca. È vero, cazzo. Plantera bianca. È un plantera 2.0. No, ma lo stiamo scopando, però, eh. Oh, oh! Sono due. Sono due. Quello che vola... Quello che non è plantera è necroplasmica. Eh, però fa danno, non è una copia, tipo il Breno Fduro, eh. Ok. No, c'è 20%. Quasi. Allora, nella linea, proprio po'. No, non do più. Eh, no, sto morendo anch'io, sto morendo anch'io. Dai, sono morendo. Ma resisti, Bea. Tenti, su. È infame? Minchia, mi sono trasportato nel momento peggiore. 20%. Sono beccato. Faccia, sei facile da tirare. Aia! Oh, rimarda! Beccato! Eh, morto. Beccato! Sono scarso oggi. Morto, morto. Morto, raga, ma... Cioè, ma super easy. Facilissimo. Mi ha droppato il Keyblade. Guarda. Vabbè. In onore del fatto che... Perché, ragazzi, io da poco ho iniziato Kingdom Hearts. Bello, Kingdom Hearts. Così, perché volevo prendermi... Riprendermi la serie. Però, ora che lo vedo, il castello è bello da vedere con la sola dell'Eclipse. Ah, ok, scusami. Eh, vedi, sei scemo. Oh, che cazzo... A ricerca, eh. A ricerca. Guarda, guarda che figa. La voglio anch'io. È proprio bella. Il prossimo boss... Guarda qual è il prossimo boss. Ah. Eccolo. Perché lui sarebbe... Non si vede anche da come è fatto. Lui è il Duke Fission corrotto dal mare sul suo tipo. Sì, è sporco. Ma guardalo, guardalo! Evoca l'occhio! È una città. Ducca Piscina, Ducca Piscina. Ducca Piscina. Ecco, ragazzi! Vola! Vola! Pazzesco! No! Quanta vita gli mancava! Allora, quali sono stati i miei errori? Il primo è che appena è apparso, siccome per tutte queste battaglie non sto mai guardando video, è sempre difficile per me subito reagire nel modo giusto, perché devo prima capire che cosa cavolo fa questo boss e poi iniziare ad evitarlo e combattere nel modo giusto. Vabbè, ragazzi! Direi che possiamo saltarci qui. No, abbiamo... Buonanotte! Buonanotte, buongiorno, buon mattino! Buonanotte! 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 Buonanotte!